buongiorno a tutti ben ritrovati con una puntata di good morning milano sono le 12 e 30 in questo istante e benvenuti in diretta su milano o news come sempre vi porterà a conoscere protagonisti nuovi della città la città metropolitana di milano della città di milano è un po che insomma ci siamo appassionati anche al mondo delle università di quel mondo oggi tra le erano avuto settimana scorsa ad esempio ricordate noi gli ospiti due radio universitarie radio bicocca e la radio dello yulm quest'oggi andiamo in malta università andiamo una città che anzi è molto se ne parlano spesso ultimamente anche perché forse si sposta forse no chi lo sa andrà via la città studi insomma non si sa bene si amplierà invece molto probabilmente l'avete capito parliamo del politecnico che insomma già a sedia che svariate zone comunque della città ma parliamo di una associazione adesso poi comunque chiederemo meglio a loro per definirsi bene che è nata appunto all'interno del politecnico sono gli studenti dello stesso politecnico l'hanno fondata seguendo un esempio internazionale dunque ce ne sono tante in giro per il mondo sono quelle che vengono definite junior enterprise che cosa sono allora parliamo negli ospiti di oggi a cui diamo il benvenuto devo benvenuto quindi a gianluca generati presidente di jamp buongiorno buongiorno presidente questo caso si dice così e buongiorno anche al segretario generale non relazioni tema di jamp alvi alili buongiorno allora jamp junior enterprise che cosa è una junior enterprise una junior enterprise un'organizzazione no profit composta interamente da studenti universitari che si pone come obiettivo quello di formare i propri associati attraverso lo svolgimento di attività che si avvicinano il più possibile a quello che è il mondo del lavoro quindi ad esempio nel nostro caso e nel caso anche più generale progetti di consulenza cioè una junior enterprise è un embrione di società di consulenza vera e proprio nei campi che appunto voi studiate quindi insomma è una messa in pratica quasi diretta di quello che diciamo mi direbbe da dire la mattina in aula applica cioè avete l'input e poi andate subito a dare poi una realizzazione nel concreto nel reale nel mondo del lavoro come funziona appunto già da quanto è che è nata come è nata e appunto diciamo che ci sono anche varie nel mondo giusto i jamp ha iniziato a svilupparsi nel 2013 da un'idea di otto ragazzi del politecnico che ovviamente hanno preso l'ispirazione da una junior enterprise delle junior enterprise che esistevano già in italia quindi nel 2013 è iniziata un po l'idea si è iniziato a sviluppare un po jump e ufficialmente il riconoscimento è avvenuto nell'ottobre 2014 quindi nell'ottobre 2014 abbiamo avuto ufficialmente lo status di junior enterprise e quindi circa quattro anni che siamo in attività una cosa molto interessante delle junior enterprise è che a differenza delle aziende che insomma che c'è un turno veramente male ultimamente però il vostro è già un turno forzato nel senso che poi uno ha finito il suo percorso di studi va fuori esce da questa e c'è gente invece che appunto ogni anno e tra voi praticamente ogni anno avete gente nuova che entra e esce giusto di quegli altri ad esempio c'è qualcuno che è rimasto ancora tutti i fondatori sono si sono adesso alluminizzati da jump c'è questo appunto processo di di uscita dalla linea enterprise e invece ingresso in quello che è il network di alumni quindi per persone che hanno contribuito in modo valido e sostanzioso alla crescita della junior enterprise e che poi continuano a contribuire anche non facendone parte successivo esatto com'è quindi questa gestione del però continuo tutto il mondo infatti insomma non sia facile sempre gente nuova gente anche che sono appunto quando arriva il momento che mai si è formati è ormai il tempo di andare via immagino giusto come funziona è praticamente quello che facciamo noi organizzare dei recruitment tutti gli anni in cui appunto selezioniamo gli studenti che vogliono che vogliono provare a entrare nel mondo delle junior enterprise e nel mondo di jump nel nostro caso è difficile come dicevi tu comunque cercare di mantenere le conoscenze all'interno della junior le competenze perché poi ogni anno entrano tante persone diverse quest'anno sono entrati circa 25 nuovi soci e quindi abbiamo praticamente raddoppiato il numero e siamo quasi in 30 in 39 praticamente adesso e quindi questa gestione poi si rispecchia anche nel fatto che il direttivo per esempio quindi presidente segretario tutti gli anni cambiano quindi c'è questo cambio di carica ed è bello interessante anche gestire questo cambio quali sono le caratteristiche che un ragazzo deve avere un ragazzo e una ragazza devono avere per poter entrare in jump di base direi intraprendenza e motivazione nel senso che noi anche rispetto a quello che diceva albi dei recruitment certo facciamo una selezione ma una selezione che passa per le competenze noi selezioniamo studenti che noi crediamo possono lavorare al meglio con noi proprio in base alla loro voglia di fare alla loro voglia di crescere e di formarsi e quindi appunto alla loro motivazione uno junior entrepreneur deve essere una persona che che cerca di uscire dalla propria comfort zone quindi non è uno studente che semplicemente sta in università per studiare ma non si accontenta dello studio universitario e decide di spingersi oltre e avvicinarsi ancora di più a un professionista attraverso un'attività di questo tipo immagino che sia un'attività che insomma porta via tempo fatica che cosa dà in più però rispetto appunto a non farla da un sacco di soddisfazioni nel senso che oltre ad avvicinare oltre ad avere noi un vantaggio competitivo almeno a nostro parere rispetto a a uno studente che invece non fa parte di una junior enterprise si tratta comunque di un continuo scambio di conoscenze con persone che vengono da background diversi quindi anche semplicemente stando a contatto con delle persone che sono che arrivano ad altre facoltà si imparano molte cose lavorandoci poi a progetti finalizzati a determinati obiettivi questa questo scambio aumenta esponenzialmente ma allora parliamo un po' di questi progetti che fate fateci qualche esempio se volete di che cosa avete prodotto proprio di questi progetti che in ultimo periodo avete approcciato allora ovviamente i progetti come come le competenze cambiano e noi cerchiamo di ampliarli tutti gli anni e per esempio una cosa di cui siamo molto fieri e orgogliosi è la forza del nostro delle competenze in design quindi abbiamo realizzato campagne di campagne di comunicazione oppure poi passando anche ad ambiti più economici ingegneristici abbiamo realizzato dei business plan anche anche per altre società no profit nel milanese e quindi ci stiamo muovendo anche nel mondo del magari delle ricerche di mercato anche più di il design di prodotto e non solo della comunicazione quindi anche alla progettazione verso più magari ambito ingegneristico e quindi progettuale e siamo comunque in continua evoluzione dal punto di vista dei servizi è interessante anche sapere dove diciamo si trova fisicamente c'è in questo che abbia mai non siamo ovunque non fosse neanche bisogno di una scrivania basta uno smartphone o tablet e produciamo ovunque siamo però avete comunque la vostra sede che è in un luogo abbastanza importante per il Politecnico certo assolutamente gente incubata in Poliab che è l'incubatore di startup acceleratore di impresa del Politecnico in particolare viene dalla fondazione Politecnico di Milano Poliab appunto ci concede questi spazi che ci servono per le nostre riunioni piuttosto che per eventi piuttosto che per incontri con clienti e oltre a questo ci garantisce una community di professionisti e startupper che ci aiuta a crescere sia professionalmente perché chiaramente noi possiamo essere una risorsa per Poliab nel senso che possiamo offrire i nostri servizi a una startup che deve crescere e che deve implementare determinate cose al suo interno e d'altra parte ricaviamo molto da questa community perché anche noi siamo lì per imparare come è la vita appunto del Poliab siete rimasti colpiti da quello che è dentro si è sempre di essere forse al centro di una rivoluzione proprio si è un ambiente molto energico e penso che poi per noi sia anche è un onore e un privilegio essere parte di Poliab e essere qui e partecipare comunque a tutti gli eventi di Poliab alle iniziative e prendere anche comunque come diceva Gianluca aiutarli anche offrendo i nostri servizi quindi in piccola parte anche contribuire alla crescita di quello che è il movimento delle startup in Italia che tipo di eventi mi dicevi anche fate no? che tipo di eventi avete fatto magari ultimamente che tipo di eventi potreste... e poi fatemi anche qualche caso proprio lavorativo che avete portato senza fare nomi di aziende che sappiamo che non possiamo farli e così ma per farci capire un po' proprio quello specifico che avete fatto caso lavorativo inteso come progetto? si si come progetto ok allora quindi c'è il punto che vi vedete con i clienti quindi anche quella fase di come funziona si allora parto dagli eventi magari no allora noi essendo una Unionet Enterprise abbiamo un organigramma ben definito quindi c'è il board che è composto da scusami da presidente, segretario generale e tesoriere e poi ci sono tre aree in questo momento in GEMP c'è un'area network che si occupa dei rapporti con le altre associazioni dei rapporti con gli alunni e della comunicazione all'esterno c'è un'area HR che si occupa della gestione delle risorse e dei recruitment e c'è un'area commerciale appunto che invece si occupa della gestione dei clienti e di tutti i rapporti con potenziali tali quindi clienti a livello di interazioni con i clienti è sempre interessantissimo anche soltanto attraversare un processo di negoziazione perché naturalmente noi arriviamo e ci approcciamo con professionisti che magari fanno il loro lavoro da 20 anni mentre noi siamo i primi arrivati se così si può dire però proprio questa cosa ci dà l'opportunità di riscattare quella che è probabilmente la prima impressione cioè di semplicemente studenti e porci con una serietà e con una professionalità che non è proprio data per scontata a livello di eventi invece mi chiedevi un evento dell'anno scorso è stato proprio di connessione tra PoliHub e il Politecnico abbiamo portato dei CEO di startup di PoliHub a raccontare la loro esperienza agli studenti e in seguito abbiamo ideato questa sorta di laboratorio di creazione di una startup da parte di team di studenti è stato davvero interessante sia in fase organizzativa che poi in fase partecipativa da parte nostra appunto mi hai parlato di collaborazione con il Politecnico qual è il vostro rapporto con l'università e che tipo di legame c'è? allora con l'università l'università ci offre supporto ovviamente dopo averci riconosciuto ufficialmente come associazione nel 2014 poi i rapporti comunque sono positivi con l'Ateneo perché come detto ci permette di organizzare questi eventi rivolti a tutti gli studenti quindi contribuire anche alla crescita degli studenti stessi ci sostiene anche finanziariamente quando ci sono questi tipi di eventi quindi ci permette di partecipare a un bando in cui definiamo quali sono gli eventi che vorremmo organizzare e poi insomma chiediamo anche un budget eccetera per appunto favorire la crescita degli studenti c'è un certo tipo di indicazione da parte del Politecnico o adesso invece siete lasciati liberi poi invece su dove andare, sul tipo di rapporti che avete con i vostri clienti? rispetto agli eventi ad esempio ci sono ovviamente dei vincoli perché il Politecnico deve fornire dei contributi se si no no, potreste consulenze ad esempio no, siamo molto liberi di gestire i clienti che vogliamo di erogare i servizi che più riteniamo opportuni per il nostro in-enterprise personalmente qual è stata la consulenza che più ti ha colpito in questi anni in cui sei in Genpro? io sono stato PM cioè Project Manager per un progetto di analisi dati per un cliente che è un cliente abbastanza fedele a JEMP nel senso che ci dà la possibilità di svolgere molti progetti in che campo? campo finanziario questo ok e appunto questo cliente è una persona che viene dalla consulenza quindi una persona alla quale molti di noi poi aspirerebbero a diventare ad esempio ma che adesso invece sta lavorando in una start-up e che quindi ha un sacco da insegnare sia a livello di porsi quindi caratteriale sia a livello di competenze tecniche e di cose che si possono diciamo le competenze dal punto di vista ingegneristico voi le avete imparate, le imparate tutti i giorni nelle vostre aule quelle altre come si fa a imparare? tutta quell'altra parte che manca e serve per diventare degli imprenditori o comunque appunto gente che sappia vivere e lavorare nel business come si fa? allora ovviamente poi questo è anche l'obiettivo con il quale nasce la Genera Enterprise dare quelle altre competenze agli studenti che vogliono, che aspirano a essere qualcosa di più beh come dicevamo prima già è solo fatto di lavorare insieme quindi lavorare in un team con tante persone diverse aiuta ma poi noi ci muoviamo anche attivamente nel senso che organizziamo workshop per i nostri associati per vari temi, ci sono workshop per esempio sulla negoziazione piuttosto che sulla comunicazione verbale e non verbale e questi possono venire sia comunque da professori anche del Politecnico che a cui piace, sono entusiasmati dalla nostra iniziativa e quindi decidono di darci un aiuto in quel senso ma anche con aziende esterne con le quali poi possiamo decidere di collaborare e che anche se insomma con la stessa motivazione quindi sono interessato alla nostra realtà e decidono di erogarci questi workshop C'è qualcuno che vado arrivato e vi ha detto non ce la farà mai e poi invece vi ha stupito e vi ha proprio colpito appunto per questo imparare diciamo queste soft skills che servono nel mondo cioè molti arriveranno mai e hanno anche delle paure così riuscite a farli superare? sì, in realtà quello che credo faccia superare più queste potenziali paure sia il gruppo che si crea nel senso che si forma un team di persone con lo stesso mindset e la stessa tendenza a fare cose per imparare è proprio la mentalità del learning by doing l'obiettivo ovviamente è questo quindi noi cerchiamo di creare un gruppo più possibile coeso che abbia gli stessi obiettivi e nel quale quindi le persone si aiutino a vicenda in queste situazioni ad esempio Cominciamo appunto non è un fenomeno solo italiano quello delle GE ma c'è anche appunto all'estero voi avete una collaborazione di ben atto con una GE francese giusto? Cosa fate? La collaborazione che è nata quest'anno tra l'altro con la GE Enterprise di Marsiglia prevede sostanzialmente due aspetti un aspetto più commerciale quindi magari sostenersi poi nella gestione dei clienti esempio c'è un nostro cliente che ci chiede di fare qualcosa in Francia o a Marsiglia più specificatamente allora poi il progetto viene passato ai nostri colleghi insomma francesi e viceversa ovviamente e la seconda parte che forse è quella anche più importante è la condivisione delle cosiddette best practices nel senso che se noi abbiamo un problema oppure dobbiamo fare qualcosa di nuovo che non abbiamo mai sperimentato possiamo chiedere a loro che magari lo affrontano tutti i giorni questo problema e ovviamente viceversa insomma è davvero interessante la realtà di GE e quasi è peccato che è solo per quelli che fanno un po' di tecnica dove si si iscrive? dove bisogna riscriversi? insomma oltre a imparare tanto si fa appunto tanto invece di appunto learning by doing quindi è proprio bello l'idea di vedere qualcuno che appunto si studia una cosa e poi si cerca di mettere subito in atto e anzi si impara e si capisce ancora di più quello che poi si andrà a trovare fuori una volta usciti dall'università ricordateci le vostre coordinate come si fa a contattarvi come ci si può approcciare a voi nel senso che cosa uno può venire a proporvi sia dal punto di vista dei studenti che invece dal punto di vista anche delle aziende che tipo di costruenze fatte e cosa possono le aziende chiedervi allora siamo contattabili più o meno ovunque nel senso che siamo sui social quindi facebook piuttosto che linkedin o anche instagram e poi abbiamo un sito www.gem.it molto semplicemente su questo sito è spiegato un po' tutta quella che è GEMP dal punto di vista delle persone dal punto di vista dei servizi e appunto ci sono forme varie da compilare nel caso di interesse da parte di uno studente piuttosto che di un'impresa che vuole entrare in contatto con noi che tipo di consulenza fate per l'azienda ci dobbiamo far capire è una consulenza che viene dalle nostre competenze quindi di design, della comunicazione piuttosto che del prodotto è una consulenza un po' più economica quindi analisi di mercato ci stiamo muovendo in questo momento verso i business plan e poi anche analisi dati insomma poi il bello secondo me è proprio che noi abbiamo ovviamente un'offerta predefinita che però poi spesso non corrisponde a quello che effettivamente facciamo perché il cliente ci chiede qualcosa e noi capiamo di poterla fare anche se ad esempio non è compresa in quello che normalmente faremo e questa è un'occasione in più per crescere ancora ah di segretario generale insomma sono una competenza naturale come ci sei arrivato a GEMP personalmente? però io la campresidente dopo io personalmente poi è interessante perché noi siamo entrati nello stesso recruitment quindi siamo entrati un anno fa quindi a un topo più o meno a un topo la mia settimana ha tante opportunità di aggregarsi a vari gruppi di tutti i generi dal teatro al giornalismo al GEMP tra la marea di opportunità che avevi hai scelto GEMP non mi dire che poi hai scritto a tutti gli altri perché no è compulsivo questo hai scelto GEMP perché? ho scelto GEMP perché era forse quella che riusciva era più in linea con quello che era il mio pensiero magari il mio pensiero era quello di di voler fare qualcosa di più che mi migliorasse sia come persona ma sia a livello professionale quindi iniziare a costruirmi già un futuro per la mia carriera professionale e quindi arrivare in un certo senso più pronto per affrontare il mercato del lavoro e poi comunque già iniziare a costruire qualcosa di rapporti, una rete di contatti una rete di persone e insomma mettere un po' fuori il naso da quello che è la realtà del politecnico ecco interessante perché appunto dovrebbe pensare che anzi uno che studia tutto il giorno magari appunto poi si schiva al gruppo di pallavuolo poi diciamo almeno scarico le endorfine non faccio nient'altro mi rilasso e tutto invece voi diciamo oltre a lavorare studiate studiate e lavorate continuamente si ci sono anche momenti di svago non è tutto lavoro a testa bassa ero preoccupato di questo ma sentite come mi hai scelto GEMP? è stata la scintilla che ti ha fatto innamorare di GEMP? no allora io sono sempre stato interessato ad aprire una mia attività durante la mia carriera universitaria cosa che però realizzavo di non poter fare essendo impegnato così tanto con le lezioni che tipo di attività avresti voluto aprire? una start up in generale quello che avrei voluto fare fin dall'inizio era una start up poi mi sono imbattuto in GEMP abbastanza casualmente e ho visto che questo effettivamente era il miglior compromesso nel senso che sono entrato all'inizio non sapendo effettivamente cosa fosse GEMP e cosa fosse la consulenza e invece poi mi sono innamorato di quello che è tutta l'associazione hai detto bene non sapevo cosa era GEMP non sapevo cosa era la consulenza la consulenza è una cosa che è ancora un po' fumosa soprattutto per quelli magari un po' più grandicelli di voi che non fanno il vostro mestiere anche quelli come me che insomma hanno visto la consulenza chiunque faceva la consulenza era tutto e niente come la definiresti tu? cioè che lavoro è quello del consulente nel vostro caso ad esempio? quello che ci troviamo a fare noi spesso come consulenti junior e quello che vogliamo fare da consulenti proprio perché pensiamo che si avvicini al massimo a quello che potrà essere poi la nostra professione è capire il cliente cioè non aspettare che una richiesta arrivi dall'alto ma si può dire arrivarci noi insieme al cliente cioè costruire un percorso nel quale noi supportiamo il cliente e il cliente ci dà feedback continuo in modo che poi si arriva alla soluzione insieme non una cosa fai questo e quindi la facciamo ragazzi allora ricordiamo siamo in chiusura ricordiamo allora le vostre coordinate dove si può trovare GEMP ricordiamola ancora su Facebook solita pagina sì sì abbiamo una pagina Facebook sì per l'internet www.gem.it sia che siete azienda che siete studente vabbè a dire no si trovate si trovate si trovate si trovate se che sia azienda o studente cerca GEMP perché insomma ha una sicura risposta per la tua richiesta esatto le vostre chieste loro avranno la risposta e se la risposta non esiste la troverete insieme esatto perché appunto è un progetto molto interessante dove mi viene a dire dove si impara entrambi mi viene a dire che dal punto di vista dell'azienda quanto può imparare ad esempio ad avere un gruppo di giovani ragazzi commenti completamente aperti libere non magari chiuse protocolli aziendali o processi aziendali insomma magari trovare la strada nuova la famosa terza via si trova sempre così presidente grazie mille allora di essere stato qui con noi è stato un piacere segretario generale non ci arrivo ma vediamo nel lungo ce la facciamo grazie mille davvero di essere stati con voi con noi loro sono GEMP appunto Junior Enterprise di Milano Politecnico 39 associati dicevi già quest'anno insomma sempre di più con la bellissima realtà da tenere sott'occhio ed è quella parte bella che ci piace raccontare grazie mille davvero grazie a tutti voi che ci avete seguito allora questa sera alle ore 18 ritorno a Milano News con il telegiornale edizione della sera poi domani siamo sempre qua alle 12.30 con Good Morning Milano ma soprattutto lunedì ore 18 in diretta fino alle 22 il candidato tutti tutti quanti i candidati della regione Lombardia i consiglieri i candidati della regione Lombardia sono invitati a venire qui i nostri studi porta aperte non all'arreno come dicevano la vecchia pubblicità ma porta aperte a Milano News venite qui e raccontateci la vostra idea di Lombardia e invece chi ci segue dalle 18 potrà vedere in diretta tutti i candidati passare qua e insomma sappiamo abbiamo già tutte le votazioni abbiamo già 35-36 sono già prenotati per venire qui a fare il loro quarto d'ora di Gloria e raccontarci la visione che avranno appunto di questa Lombardia che poi ricordo il 4 marzo va al voto grazie mille davvero a tutti ci vediamo presto arrivederci